Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi. Come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenzie con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70 euro. Bassi e fissi. Qualità e convenienza che non temono confronti. Abbiamo bisogno di vivere, di far vivere la nostra comunità. Con le precauzioni, con le mascherine. Tutti vaccinati, tutti col Green Pass, col Super Green Pass. Dobbiamo garantire che dopo tanti sacrifici si possa tornare a vivere. E lo vogliamo fare con tutto il nostro impegno per garantire le giornate migliori. E sempre ricordandoci di stare vicino a quelli che sono malati e a quelli che non stanno bene. Beh, si illumina in periodo, era giusto farlo perché questo deve essere un Natale diverso da quello dell'anno scorso. L'anno scorso lo abbiamo passato in lockdown. Quest'anno, grazie all'imponente e straordinaria campagna vaccinale che il nostro Paese, la Liguria in particolare, ha fatto, riusciamo a garantire un Natale più sereno. Non un Natale totalmente immune dal virus, ma un Natale in cui possiamo tornare a vivere le nostre vite, a dare una mano ai nostri commercianti, ai nostri artigiani, a fare in modo che le famiglie si incontrino con prudenza, con attenzione, con misura. Però credo che sia la migliore dimostrazione di quanto funzionino questi vaccini e di quanto ci sia bisogno di vaccinarsi. Le terze dosi, le prime dosi per quei ritardatari che ancora non l'hanno fatto, è quello che ci consente oggi di essere qua in una Liguria illuminata. Abbiamo illuminato Spezia, oggi illuminiamo Imperi e poi sarà la volta di tutte le altre grandi città.